Mal tempo con relativi smottamenti e allagamenti. La notte passata nel Bolognese, nella zona metropolitana, si è verificato un terribile temporale che ha causato danni specialmente nelle zone intorno a Galcio, Castiglione, Dei Peppoli e Torretta e Poletta Terme. La Poletta e le strade si sono trasformate in torrenti veri e propri e granaglione. Una donna è stata evacuata che risiedeva in una casa troppo esposta a detriti che stavano arrivando. I vigili del fuoco sono al lavoro da questa notte, il momento più critico. Secondo quello che riferisco i vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro in diverse località, è stato intorno a luna della scorsa notte. Tante aziende sono allagate, i vigili del fuoco stanno al momento lavorando con le potopompe per ottenere l'acqua degli edifici. A Granaglione è stata evacuata una donna dalla sua abitazione, una frana ha bloccato i risetti e le versioni che transitavano sull'SP55. Ringrazio per l'ascolto e per la visita di questo video di oggi. Se abitate nel Bolognese, ditemi se avete oppure no visto questo temporale così devastante. Ciao a tutti, da Renato, Renato Italia.